Che coatto Che coatto È lui il generale, è lui Guarda, fai una pinaccia Il mio garo Uvisca Quattro, ma tanta roba Guarda la danni Ecco le porte, le prime porte Ha preso, sì, maledetta Che fa? Ma che davvero Allora, ha una gialla intorno al nemico Shield Mi fa il controattacco Allora, ha una gialla intorno al nemico Allora, ha una gialla intorno al nemico Bello Giuse Buon pomeriggio a te, brother Beati voi Stai al lavoro, bro La gialla intorno al nemico La gialla intorno al nemico La gialla intorno al nemico Di Gidani Sono bravo Il vostro Reggina Tomilis 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 fascia regale offerta da comiris regina di persia la massima onoreficenza riservata ai guerrieri più valorosi vabbè però ma stavano assolutamente in the palace neanche una birra in pace in locanda o niente o manco un attimo di gloria mai una gioia che cazzo i was in planning on killing you sargon stay out of this move out of my way a lei tradimento regà fight una stronza ha messo tipo un sigillo per terra blocca tutto il passaggio perché non mi piace perché non mi piace me niente holy shit buonasera benvenuto in locanda possiamo offrire qualcosa gli attacchi arezzabili occhio rosso non possono essere mai fermati schivali è poco dici ma è veloce eh sì cazzi grazie che mollo, che mollo bello grazie della compagnia bro buon pomeriggio ci sentiamo presto cosa sta succedendo? buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio buon